Musica Con il coach del copertino Simona Viterbo, coach è stata una partita importante, avete dimostrato carattere, avete dato seguito alla vittoria di Bari 3 a 0, imponendovi anche su un parquet difficile come quello dell'Udas. Sì, sicuramente, siamo venuti convinti di affrontare una partita difficile, con dei deficit all'interno dell'organico, però siamo riusciti finalmente a giocare palla su palla, convinti di non avere nulla da perdere, quindi è andato tutto bene oggi, oggi la fortuna ha girato a nostro favore. Oggi penso che una delle chiavi per vincere questa partita è stata un'ottima difesa. Ottima difesa e ottima correlazione, muro-difesa, perché a differenza di altre partite siamo riusciti a toccare più palloni a muro e di conseguenza essere un po' più presenti sulle palle in difesa. Tre punti fondamentali, adesso la prossima a Fronterite Monopoli sarà uno scontro diretto per lottare e crederci ancora a questa promozione. Sì, sicuramente una partita difficile a casa del Monopoli, sarà anche lì una partita del riscatto, vista la brutta figura fatta in casa. Cercheremo anche lì di dare del filo da torcere, ormai non abbiamo più nulla da perdere, quindi giocheremo palla su palla anche lì. Oggi avete dimostrato di non valere quest'ultima posizione in classifica, quanto ci credita ancora questa promozione? Beh, adesso ci crediamo sicuramente molto più rispetto alle altre partite, chiaramente abbiamo pagato lo scotto di alcuni infortuni, di alcune mancanze, però ci crediamo sicuramente, venderemo cara la pelle, quello è chiaro. Ok, grazie coach, complimenti in bocca al lupo. Grazie a voi. Gentili appassionati di volley, siamo collegati dal Palavolle Nando Di Leo, dove ha appena terminata la gara tra Udas e Copertino, che ha visto imporsi gli ospiti 3-7-1. Siamo con il coach Roberto Ferraro, coach è stata una gara anche questa sfortunata, avete perso 3-7-1 ed è risultato avanti anche con la bella rimonta del terzo set quando perdevate 17-24. Certo, purtroppo c'è stato un susseguirsi di eventi negativi che non ci hanno permesso di mettere a segno questo match winner. Adesso dobbiamo non pensare più a questa sconfitta e dobbiamo guardare alle prossime due, cercando di fare questi ultimi due punti che ci consentono di fare il salto di categoria. Speriamo di riprenderci al meglio in questa settimana perché oggi non abbiamo giocato come sappiamo. Quanto ha pesato la perdita per infortunio del laterale Ciro Ruggero durante la partita? È pesata molto perché comunque l'altra squadra aveva un'ottima battuta e non sbagliava mai in attacco. Noi siamo calati molto in ricezione e quindi sono diminuite le nostre soluzioni d'attacco e anche in difesa abbiamo fatto cadere troppi palloni facili che magari con Ciro Ruggero probabilmente non sarebbero caduti. Purtroppo per voi da quanto si dino d'or di promozione le cose pian piano si stanno complicando? Sì, non abbiamo fatto un ottimo giro di ritorno, però non è ancora finita e ci crediamo e ci speriamo ancora. Vediamo che cosa succederà, comunque mal che vada anche se non riusciamo a portare nessun punto contro la prima sabato prossimo, abbiamo l'ultima partita in casa contro la nostra diretta concorrente che è il Bari che oggi si è imposto col Monopoli prendendo i tre punti e riducendo un solo punto di distacco da noi e quindi ce la giocheremo tutto in casa fra 15 giorni. Adesso appunto sabato affronterete la prima in classifica un impegno sicuramente non facile, però sarà importante riuscire al massimo a portare almeno un punticino a casa. Oddio, noi all'andata potevamo vincere facile, ricordiamo bene com'è andata. Se riusciamo a portare punti da noi cattolo contro la prima che ormai è già matematicamente salita in serie C, spero non si impegni molto contro di noi e ci restituisca quei punti che ha rubato qui da noi. Magari anche prendere un punto o due punti ci renderebbe la vita più facile, nel senso che comunque poi all'andata possiamo anche perdere 3 a 2. Se prendiamo due punti a noi cattolo sarebbe il massimo, non possiamo già festeggiare diciamo, perché poi il Bari ha una sola partita, se noi aumentiamo di stacco di 3 e poi anche se dovessimo perdere l'ultima partita abbiamo una differenza set migliore rispetto al Bari perché abbiamo fatto due partite o tre partite 3 a 2, quindi siamo molto più avanti rispetto a loro, possiamo perdere anche 3 a 0, 3 a 1, spero non accada questo però, vabbè è inutile fare i conti, speriamo di riprendere a giocare come sappiamo, anche se adesso dovremo fare un nuovo riassetto della squadra, perché credo che l'infortunio del laterale è serio, purtroppo, perché vedevo una frattura scomposta della mano del metacarpo e quindi credo che ne avrà, penso che per lui il campionato sarà finito, speriamo adesso di riassettare subito la squadra con l'inserimento dell'altro nostro over, perché il palleggiatore, vediamo che cosa accadrà, vediamo che cosa succede, magari Apollo, da fare il palleggiatore, diventerà il nostro miglior schiacciatore. Sperando che con oggi sia definitivamente chiuso il conto con la sfortuna. Speriamo di sì. Ok, dal pala a Apollo è tutto, Fabio Trallo assiste sportivo. Grazie a tutti. Grazie a tutti.